Gentili telespettatori, buona giornata. Nicola Fratoianni fa un appello a Salvini e Meloni dicendo prendete in giro gli italiani cambiate strada. A che cosa si riferisce Fratoianni? Dice così, Giorgia Meloni prende in giro gli italiani, li prende in giro quando dice che fermerà le partenze dei migranti dall'Africa, li prende in giro perché il blocco navale non si può fare o quando dice che risolverà il problema costruendo nuovi CPR all'infinito, cioè quei luoghi di detenzione che sono un buco nero nel nostro diritto, non risolve alcun problema, dice il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni sui social in un video. Dice prendiamo il numero dei rimpatri, è sempre rimasto irrisorio rispetto al numero degli arrivi, bisognerebbe smetterla di investire sul disgoverno del sistema per creare paura e poi dire che i propri slogan come strumento di accumulazione di consenso elettorale che è il mestiere preferito di Matteo Salvini, quello che quando arrivò nel 2018 al governo pensò bene di demolire il sistema di accoglienza e di cancellare tutto ciò che funzionava dai piccoli centri e dall'accoglienza diffusa, tagliando i fondi ai processi di inclusione e ai corsi di italiano, così facendo nessuno verrà mai integrato. La verità è che con le vostre politiche siete voi a creare un'emergenza, siete voi che rischiate di creare la bomba sociale e se avremo problemi in questo paese i responsabili sarete voi, saranno queste politiche, avete fallito sulle politiche migratorie, riconoscetelo e cambiate strada. Allora, è abbastanza farneticante e adesso vi spiegherò perché punto per punto. Allora, Frattoianni dice che la Meloni prende in giro gli italiani perché quando dice che fermerà le partenze il blocco navale non si può fare. Allora, a sinistra tutti ripetono la stessa cosa, il blocco navale non si può fare, la Meloni l'ha capito solo adesso? In realtà non è che il blocco navale non si può fare, è che la Meloni non vuole fare il blocco navale. Il perché non lo ha mai detto a nessuno. La Meloni dice blocco navale sì ma l'Europa lo deve fare. Bene, se la Meloni ha ricevuto un preventivo dal Ministero della Difesa che dice guarda ci costa tanto e la Meloni ha verificato che non ce lo possiamo permettere economicamente, dovrebbe dirlo all'elettorato. Dovrebbe dire all'elettorato non abbiamo i soldi per fare il blocco navale perché costa troppo. Oppure non lo faccio perché l'Europa s'arrabbia, non lo faccio perché voglio essere la nuova Merkel e se lo faccio non me la fanno più fare. Deve esserci una motivazione perché quello europeo sì e quello italiano no. Naturalmente quando la sinistra dice che ha scoperto che il blocco navale non si può fare, erano tutte bugie, non è vero che non si può fare. Non lo si vuole fare, è diverso. Non c'è nessuno che impedisce di fare il blocco navale, a meno che siano i presidenti di questi stati del Nord Africa che dicano no. Se dicono no, non si può fare. Quello è l'unico modo. Il non si può fare è solo se i paesi del Nord Africa dicono no al blocco navale. Quello è. Quindi se voi chiedete a Fratoianni, provate a fare questa prova, chiedete a Fratoianni perché il blocco navale non si può fare, non sa rispondere perché non c'è una risposta. La Meloni non ha mai detto non lo posso fare, semplicemente non ha mai risposto alla domanda perché non lo vuoi fare. Andiamo avanti. Il problema costruendo nuovi CPR all'infinito non si risolverà il problema degli arrivi. Certo, i CPR non c'entrano niente con l'arrivi. Ma insomma, diciamo che l'ultimo video della Meloni quando dice non venite in Italia perché vi mandiamo nei CPR vuol dire non venite in Italia perché vi mandiamo in galera per un anno e mezzo. Quello dovrebbe essere un deterrente che secondo me non serve a niente. Cioè quello che deve partire, che non ha niente da perdere, niente. Volete che si spaventi per con la minaccia ti mando al CPR? No, parte lo stesso. E poi parla Fratoianni del numero dei rimpatri è sempre rimasto irrisorio rispetto nel numero di... bisognerebbe smetterla di investire sul disgoverno, bla bla bla. Allora, il numero dei rimpatri irrisori è un'affermazione vuota perché i rimpatri sono quelli che si possono fare. Cioè si possono rimpatriare solo le persone che l'Italia ha un accordo con il loro paese. Quindi si rimpatriano quelli che si possono rimpatriare. Quelli che non si possono rimpatriare non si rimpatrino. Quindi è inutile dire pochi, tanti, sono quelli che sono. Sono quelli che sono. Perché non ci sono accordi solo con cinque paesi per il rimpatrio. Per tutti gli altri paesi non puoi fare niente, li devi tenere in Italia. Quindi poco, tanti è un argomento vuoto quello dei rimpatri. Perché si rimpatria solo quelli che si possono rimpatriare. Quindi lo utilizzano come argomento di propaganda quello dei rimpatri da una parte e dall'altra, ma è una stupidaggine. Poi Salvini che ha demolito il sistema di accoglienza. Attenzione, quando c'era Salvini c'è stato un momento che praticamente le partenze erano ridotte al lumicino e avevano chiuso parecchi centri per l'accoglienza in Italia perché non servivano più, non c'erano più migranti. Vi ricordate quello di Caltanissetta, uno dei più grandi, che era stato chiuso proprio per mancanza di migranti. Perché Salvini in un momento aveva ridotto del 75% gli arrivi. C'è stato alcune settimane che non arrivava più nessuno. Quindi ovviamente quando non arriva più nessuno comincia a smantellare tutti quei centri, tutte quelle persone stipendiate dallo Stato che costavano due miliardi tutti questi centri, tutta questa accoglienza. Veniva poi piano piano tutto smantellato proprio perché l'Europa aveva dichiarato che l'emergenza migranti non esisteva più. Pensate un po'. Pensate un po'. Quindi Salvini il demolitore, anche questa è una frottola propagandistica. Siete voi a creare un'emergenza? Anche questa qui è un'altra frottolona di fratoianni. Perché dice la verità è che le vostre politiche siete voi a creare l'emergenza. Anche questa è una sciocchezza. Se avremmo problemi in questo paese i responsabili sarete voi. Continuano le cretinate. Avete fallito, riconoscetelo, cambiate strada. Cosa dovrebbero fare? Al posto che il ponte è sullo stretto facciamo il ponte con l'Africa? Cosa vuol dire? Avete fallito, cambiate strada. Ma cosa vuol dire cambiate strada? I governi sono obbligati nel tentare di far rispettare le leggi in Italia e rispettare le leggi vuol dire anche che per entrare devi avere i documenti e i permessi. Quindi non c'è da cambiare strada, caro fratoianni. Perché dire cambiare strada... Portateli tutti a casa tua e vediamo poi se dici le stesse cose. Vediamo poi se dici le stesse cose fratoianni. Grazie a tutti e arrivederci.